e amici oggi è la giornata del sorriso benvenuti a bubu tag che a noi ci piace sorridere ci piace essere allegri e scherzare e abbiamo oggi anche ospiti interessanti puntualmente c'è il ramo per i ginelli il venerdì oggi parla delle costellazioni familiari ma in particolare della coppia della coppia ci rivelerà alcune cose forse anche qualche esercizietto qualche cosa da riflettere pensare per dopo ci dirà lui poi c'è claudio spinosa con il suo bel disco punto claus claus natale santo santo claus sbagliata santo claus e poi abbiamo giampiero margiovanni che un talentuoso scrittore che ci parlerà del suo romanzo una bella storia intricata non so fatta di risvolti anche ombre come quelle che stanno all'interno di ogni ogni scrittore e comunque appunto dico di nuovo oggi la giornata 6 ottobre giornata del del sorriso sorridete che fa bene sorridete musical giulio barriela la regia